Si chiama Pasquale Tortor, a 36 anni, residente a Sciolze, titolare di un'impresa edile, incensurato. E' lui che lunedì mattina ha investito e ucciso Vittorio Barosso, 89 anni, mentre camminava in via Rivalba, frazione bussolino di Gassino Torinese, nei pressi della panetteria che ha gestito per anni, ora passata ai nipoti, scaraventandolo nel fosso a bordo strada. L'uomo è stato identificato dai carabinieri di Chivasso grazie alla telecamera di sorveglianza di un ristorante che ha ripreso il furgone bianco su cui viaggiava. Il mezzo, ora sotto sequestro, ha il lato sinistro danneggiato dall'impatto, con segni evidenti su paraurti, portiera e freccia. Al pubblico ministero, che lo ha interrogato alla presenza del suo legale, ha detto che era convinto di aver investito un animale. L'artigiano è stato denunciato per omicidio stradale e omissione di soccorso.